Buona giornata dalla redazione di Florence TV in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma a causa di un incidente ci sono 6 km di coda tra Aglio e Calenzano. Per la chiusura delle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandici, un km di coda in direzione Bologna tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 in rallentamenti tra Prato Ovest e il Biglio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fibili in direzione Firenze, 3 km di coda per lavori tra Ginestra, Fiorentina e Lastra a Signa. Code in uscita a Scandici in direzione Mare. A Firenze a causa di un incidente restringimento di carreggiata e rallentamenti sul viadotto dell'Indiano. Poversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!